Impostata la grisaglia, possiamo procedere con la pittura. Sulla mia tavolozza ho messo bianco di titanio, giallo ocra, giallo cadmio, rosso cadmio scuro, blu oltre mare scuro, tela di siena bruciata. Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. In questo video vi farò vedere in modo integrale come ho realizzato l'ultima parte della grisaglia. Potete trovare il video sulla grisaglia qui da qualche parte, ve lo lascio anche in descrizione. In questo video non andrò a fare, sarà una versione non velocizzata su come ho realizzato l'ultima parte. Quindi come sempre do una mano di olio di lino per rendere più fruida la pennellata e inizio con delle vellature a ricoprire in modo trasparente il dipinto. Ma adesso mi muto e ci vediamo a fine video. Grazie a tutti. 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 a tutti.